Attivate già da qualche settimana a Castellabate le misure di solidarietà per i nuclei e le persone che versano in stato di difficoltà economica anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per beneficiare dei buoni spesa e contributi al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Concessione di buoni spesa può fare richiesta per accedere alla misura un solo componente per nucleo familiare che abbia come requisito quello di essere residente nel comune di Castellabate e in caso di cittadinanza straniera in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. L'importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare da 100 euro per un unico componente e a salire fino a un massimo di 300 euro per cinque o più componenti. Concessione di contributi al sostegno dei canoni di locazione delle utenze domestiche. Tari può fare richiesta un solo componente per nucleo familiare residente nel comune di Castellabate e in caso di cittadinanza straniera in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità e in possesso di un'attestazione ISEE 2021 di importo non superiore a 10.000 euro. La domanda corredata di documento di riconoscimento in corso di validità e dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dai disciplinari dovrà essere presentata al comune di Castellabate entro e non oltre le ore 12 del 13 dicembre 2021 via PEC via mail o a mano. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito del comune. Come primo cittadino di Castellabate ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo ho ritenuto doveroso provvedere a dei piccoli sostegni per queste famiglie affinché anche il loro Natale sia sereno e il nuovo anno meno difficile di questo appena trascorso.